Bene, buonasera e grazie per essere intervenuti ancora una volta a questa quarta conferenza del nostro gruppo, Gruppo Astrofile di Piacenza, nell'ambito del ciclo nel cosmo del futuro. L'argomento di oggi sarà la Luna. Il nostro bel satellite, che ispira spesso anche poeti, scrittori, cineasti, è insomma un bell'oggetto. Ci sarà modo di vedere qualche cosa relativamente al primo sbarco dell'Uomo sulla Luna, del quale ricorre proprio quest'anno il cinquantesimo anniversario. E poi ci sarà anche modo di vedere i nuovi progetti che ci sono in ballo fra le varie agenzie aerospaziali, per cercare di riconquistare questo nostro satellite. Bene, partiamo con qualche dato fisico, giusto per capire di che cosa stiamo parlando. Il diametro equatoriale della Luna è di 3476 chilometri, mediamente, e questo significa che è fra un terzo e un quarto il diametro della Terra. La sua massa, non vi do il valore assoluto, ma vi do in rapporto alla Terra, è un ottantunesimo. Questo vuol dire che la massa, il peso della Luna, è circa 1,23%, quindi sembra abbastanza poco, ma in realtà non lo è, è un rapporto abbastanza discreto, almeno rispetto ad altri corpi celesti che hanno satelliti, ma che ce li hanno molto più piccoli. La densità media del nostro satellite è di 3,3 grammi al centimetro cubo, vuol dire che è solo il 60% della densità terrestre, vuol dire che mediamente la Luna pesa meno, pesa meno proprio per centimetro cubo, per metro cubo, ecco, mediamente. Poi abbiamo l'accelerazione di gravità, che è di 1,63 metri al secondo quadrato. Non è come diceva, come cantava Domenico Modugno, il peso sulla Luna è la metà della metà, ma è un sesto, quindi ancora più bassa. La velocità di fuga dalla Luna è di 2,4 km al secondo, che rappresenta solo il 21,4% rispetto alla Terra. Questo significa, anzi, questo spiega perché, per esempio, per scappare dalla Terra ci vuole magari un missile come il Saturno 5, mentre per scappare dalla Luna è stato sufficiente un piccolo trabiccolo, chiamato LEM, per sfuggire, appunto, alla gravità della Luna. Ecco, vediamo qualche parametro orbitale, cioè la Luna ruota attorno alla Terra, e assieme alla Terra ruota attorno al Sole. Ecco, succede che, siccome l'orbita della Luna, come quella di tutti i corpi celesti, è ellittica, succede che c'è un momento in cui la Luna è un po' più vicina alla Terra, quando raggiunge il cosiddetto perigeo, cioè il punto più vicino. A quel punto è a 356.400 km. Contrariamente, quando è all'apogeo, cioè all'afeglio della sua orbita, sarà a 406.700 km. Ne consegue, tenendo presente anche i tempi di percorrenza della Luna su questa orbita, una distanza media di 384.400 km. L'inclinazione della sua orbita, allora, questa Luna ruota attorno alla Terra e lo fa su un piano suo, che è leggermente differente dal piano cosiddetto dell'eclittica, cioè quel piano sul quale si sposta la Terra nel suo movimento attorno al Sole. Quindi, unendo il centro della Terra col centro del Sole, abbiamo un piano, diciamo, apparente attorno al quale la Terra ruota. Ecco, l'inclinazione rispetto a questo piano dell'orbita della Luna è poco, ma c'è, è un 5,1 gradi. E poi, a sua volta, l'asse di rotazione della Luna attorno a se stessa ha una gradazione di 6,7 gradi rispetto al suo piano orbitale. Ecco, vediamo quanto tempo impiega la Luna per fare un giro attorno alla Terra. impiega 27,32 giorni terrestri, ovviamente. Ma questo valore a noi interessa fin lì. Cioè, vuol dire che la Luna, dopo 27,32 giorni, ha compiuto un giro completo da punto a punto. Però, per quanto riguarda il nostro calendario, vale di più il mese sinodico, quello che noi chiamiamo lunazione, che dura un po' di più. Dura 29,53 giorni. 29,53. Ce lo mostra bene questo grafico. Questa è la nostra Terra che ruota attorno al Sole in un anno. Questa è la nostra Luna che, come dicevo, in 27,32 giorni fa un giro completo. Quindi, dopo 27,32 giorni, la Terra sarà qui, la Luna sarà qui. Ma se noi siamo partiti con la fase di Luna nuova, perché la Luna è proprio davanti al Sole, qui la Luna non è più davanti al Sole, ma vedremo l'ultimo quarto. Occorreranno ancora 2,2 giorni per arrivare ad essere Luna nuova. Quindi, diciamo che il mese lunare che interessa a noi, noi terrestri, è più il mese sinodico. Ecco, poi un'altra verità è che la Luna rivolge sempre la stessa faccia alla Terra. Questo perché c'è una interazione gravitazionale fra la Terra e la Luna e si creano delle forze di marea che, da una parte, agiscono sulla Terra producendo le maree, effettivamente, mentre la Terra, a suo tempo, ha agito sulla Luna deformandola leggermente. Questa leggera deformazione poi ha portato nel tempo, nel corso di qualche miliardo d'anni, a uniformare il movimento di rotazione con quello di rivoluzione. Per cui, di fatto, la Luna, come sappiamo, ci rivolge sempre alla stessa faccia. Anche se poi, a causa del suo moto orbitale, noi vediamo un po' di più del 50%, perché dipende dalla posizione, dal momento in cui si trova l'orbita lunare. Ecco, la Luna ci offre degli spunti osservativi a volte interessanti. Per esempio, quando la Luna è al perigeo, cioè più vicina a noi, ovviamente ci appare più, più grande ci appare. La Luna è sempre la stessa, però la maggiore vicinanza ci fa apparire un disco un po' più grande. Quando è all'apogeo, viceversa, ci appare un po' più piccola, proprio perché compie questa orbita non circolare, ma ellittica. Ne consegue che al perigeo la Luna può essere più grande rispetto all'apogeo, fino a un 14%. Ovviamente parliamo quando la Luna risulta piena al perigeo o quando risulta piena all'apogeo. Quando risulta piena al perigeo, è stato cognato un termine superluna, che così i media ci sguazzano molto, cioè ogni tanto ci ricordano che il tal giorno ci sarà la superluna. Ecco, diverso però è il ragionamento di quando noi magari vediamo la Luna all'orizzonte in una certa giornata di Luna piena e ci sembra piuttosto grande perché la vediamo vicino alle case, vicino alle montagne, vicino all'orizzonte terrestre. Poi magari la osserviamo sei ore dopo che è alto in cielo e ci sembra più piccola. Lì è solo un effetto psicologico, cioè nel corso della stessa nottata il diametro apparente della Luna è sempre lo stesso. È proprio un effetto psicologico che ci fa vedere questo disco un po' più grande quando è vicino all'orizzonte. Un altro bel fenomeno che ci mostra la Luna a volte sono le eclissi totali di Luna come questa del 27 luglio dell'anno scorso succede come sappiamo quando la Terra si frappone fra il Sole che la sta illuminando di Luna piena la Terra passa davanti produce un cono d'ombra che va a oscurare la Luna ma come sappiamo la Luna non si oscura totalmente perché una parte dei raggi solari passa attraverso l'atmosfera terrestre e prosegue verso la Luna. I raggi ultravioletti vengono bloccati dall'atmosfera terrestre mentre i raggi rossi dello spettro solare arrivano fin sulla Luna dandoci questa caratteristica di colorazione rossastra. altro esempio è quello dell'eclissi totale di Sole al contrario sarà la Luna trovarsi fra la Terra e il Sole in quel caso i due rischi per una coincidenza astrale si corrispondono proprio come dimensioni e quindi in questa situazione noi abbiamo la possibilità di osservare la corona solare che è questo plasma azzurro azzurognolo che fuoriesce dalla fotosfera solare e soprattutto di apprezzare le protuberanze solari queste rosse che sono poi dovute al magnetismo solare la Luna si offre anche come soggetto anche a fotografi comuni non solo agli astrofotografi sono andato un po' a cercare in internet alcune foto curiose e le vediamo assieme ecco qui c'è il fotografo che ha trovato il giocatore di basket che gioca a basket con la Luna quest'altro che tenta di accendersi la sigaretta alla Luna piena fumatore quest'altro tenta di salire sulla Luna con una schelettina quest'altro ancora se la porti in carriola qui c'è uno un lettore un grande lettore che si è fatto un abasur personale ecco a volte la Luna si offre anche come sfondo per alcune situazioni per esempio qui vediamo due persone e sullo sfondo c'è questa bella Luna in eclisse oppure ancora vediamo un acrobata che tenta di arrivare fino alla Luna oppure ancora vediamo due innamorati sullo sfondo della Luna questa è un po' più tecnologica c'è un aereo che passa proprio davanti alla Luna e questa secondo me molto bella di un fotografo americano è riuscito a riprendere la nostra stazione spaziale in orbita attorno alla Terra utilizzando come sfondo proprio il disco lunare ecco per noi astrofili che spesso siamo così spesso insomma quando capita siamo nelle piazze specialmente con la bella stagione siamo a volte con le scuole a volte nei campi scout e magari per osservare assieme alla gente gli oggetti del cielo ecco in questo caso sicuramente la Luna è l'oggetto più gettonato quello più interessante quello che al telescopio offre forse le maggiori emozioni ho trovato un video fatto dal National Geographic che ci fa capire un po' l'emozione che si può trovare mettendo l'occhio magari per la prima volta al telescopio e osservando la Luna questo filmato è preceduto da una famosa frase di Galileo che dice è uno spettacolo bello e meraviglioso vedere il corpo della Luna l'avrebbe detta proprio in occasione della sua prima osservazione della Luna con il suo piccolo telescopio ve l'ho scritto perché poi è in inglese siamo a Los Angeles c'è un astrofilo cosiddetto da marciapiede che va in giro per la città per mostrare la Luna sta montando il suo piccolo telescopio Dobson lo prepara per l'osservazione lunare e aspetta i visitatori gli osservatori questa aveva sbagliato l'atto di osservazione e quindi sort of went from there I'm looking at the moon hold on ok oh my god oh my god oh my god oh my god I can't believe it oh oh my god oh my god no way no way no way that's the moon no way yeah way no oh you can see the craters yeah that is so cool oh my god get closer get closer get closer get wider whoa what 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 look at the edge I want to see more of it I know I know holy I've never seen this before I've never seen this before that is wow that is intense right there boy whoo bro that look like that's right down the street man man what you got here man that look like that's right down the street yeah isn't that amazing it's right is that an actual image of the moon is that like a live image of the moon is that right there insomma ci dà un po' il senso di quella che è l'emozione che si può provare specialmente per chi ci guarda per la prima volta è un bellissimo oggetto come del resto lo si può capire anche da queste belle immagini del nostro Stefano Di Lauro specialista della luna che ha ripreso per esempio in questo caso con un telescopio la zona del mare della tranquillità proprio qui è atterrato a suo tempo 50 anni fa l'Apollo 11 quindi sono immagini molto belle al telescopio forse sono ancora più emozionanti ci si può vedere dentro i crateri da impatto come sappiamo i mari della luna fatti di basalto possiamo vedere alcune catene montuose è sicuramente un bello spettacolo le rime che sono poi anche degli sprofondamenti della crosta lunare anche questa è un'altra foto che ci mostra il famoso cratere Clavius di 225 km di diametro al cui interno ci sono tanti altri craterini più piccoli vicino al quale c'è anche il famoso crateretico quello che dà le raggere che addirittura è quasi visibile anche a occhio nudo questa raggere con la luna piena come ci raccontava come ci raccontava Alberto Magnani nella prima nella prima conferenza molti sono stati appunto gli scrittori i registi i poeti che si sono ispirati alla luna hanno scritto hanno fatto film hanno anche cantautori eccetera mi piace ricordare Jules Verne perché è stato veramente quello che è riuscito a preconizzare con un secolo di anticipo quello che poi sarebbe stata l'effettiva conquista della luna nel 1865 scriveva dalla terra alla luna sottotitolo tragitto diretto in 97 ore e 20 minuti dopo cinque anni nel 1870 usciva il secondo attorno alla luna quindi praticamente il racconto viene ripreso e portato a termine con questo secondo libro molto sinteticamente è la storia di un gruppo di ex artiglieri di Baltimora negli Stati Uniti che avevano costituito il gun club il club del cannone insomma e hanno avuto un'idea quella di costruire riuscire a costruire un super cannone per sparare un proiettile sferico di alluminio quindi leggero fin sulla luna molti gli hanno dato del matto a questi qua ma nel libro però sono pian piano hanno cominciato a piovere anche delle sottoscrizioni quindi dei soldi per poter finanziare questa impresa questa impresa va avanti riescono effettivamente a costruire il super cannone dopodiché entra in ballo un personaggio francese un avventuriero Michel Ardain che suggerisce di sostituire la forma sferica di questo proiettile con una forma cilindroconica in modo da poter alloggiare una persona all'interno e lui stesso dice mi offro per essere sparato sulla luna quindi per essere il primo astronauta poi intervengono altre personalità fra cui Impi Berbicain che era il presidente di questo gang club ed era anche l'ideatore di questo super cannone poi subentra un terzo personaggio un capitano Nicol un avversario politico del secondo e insomma alla fine tutti e tre vanno dentro a questa ogiva e vengono sparati verso la luna una gran folla di spettatori come si vede da questa immagine e il cannone alimentato al fulmicotone riesce a sparare questa capsula con tre personaggi a bordo fin verso la luna il primo libro si conclude con questi qua che vengono catturati dalla gravità della luna e cominciano a ruotarle attorno finisce così finisce un po' miseramente perché questi saranno costretti a ruotare in eterno attorno alla luna forse sollecitato dai lettori dall'editore non lo so dopo cinque anni fa uscire il seguito il seguito che appunto con attorno alla luna riprende la storia e alla fine insomma dall'urto occasionale di questo proiettile con un meteorite alla fine si trovano su un'orbita dalla quale riescono a sfuggire alla gravità lunare e a raggiungere la terra finiscono dentro all'oceano e riescono a salvarsi e poi essere anche festeggiati per questa impresa cosa vi dice questo racconto ci dice molto di quello che è successo nella realtà a sinistra vediamo il proiettile a ogiva di Jules Verne a destra vediamo il famoso Saturno 5 del programma Apollo in effetti se ci pensiamo ci sono molte analogie fra il romanzo e la realtà per esempio è l'americana questa diciamo questa società americana la Baltimore Gun Club che organizza l'impresa e qui abbiamo la NASA società americana poi abbiamo la base di Lansson e il romanzo in Florida da guarda caso gli americani fanno partire i loro missili dalla Florida c'è una straordinaria folla di spettatori ovviamente anche nella realtà è un evento straordinario ecco il proiettile nel romanzo decolla con tre viaggiatori esattamente come nella realtà tre viaggiatori a bordo il tragitto della luna dice Verne nel suo sottotitolo è fatto in 97 ore e 20 minuti nella realtà è stato fatto in 102 ore 45 minuti e 40 secondi includendo la discesa sul satellite quindi una corrispondenza quasi perfetta Jules Verne era molto bravo a fare i calcoli evidentemente e poi nel romanzo c'è questo ritorno guarda caso nell'oceano Pacifico salvati da una nave stessa cosa è successa nelle missioni Apollo quindi lui sicuramente Verne ha avuto un'ispirazione ma forse anche la NASA un po' se l'ha letto bene questi due libri insomma comunque sia sappiamo che la molla che ha fatto scattare questa voglia di raggiungere la luna sono stati i tempi appena all'inizio degli anni 60 quando c'era in corso la guerra fredda fra Stati Uniti e l'ex Unione Sovietica abbiamo rischiato in quei tempi probabilmente siamo andati vicini alla terza guerra mondiale nucleare a questo punto e non lo so se il merito a chi va dato ma insomma fortunatamente la contesa fra i due si è spostata in campo aerospaziale c'è stato questo questo discorso del presidente Kennedy del 25 maggio 1961 ecco vi ricordo che nel 57 i russi avevano lanciato il primo satellite artificiale poi hanno fatto seguire il primo essere umano in orbita attorno alla terra la Cagnetta Laica poi ad aprile del 61 il primo astronauta uomo attorno alla terra quindi era un momento dove l'America stava perdendo veramente questa battaglia il presidente Kennedy ha voluto inserirsi in questo contesto vi faccio sentire un piccolo pezzettino di questo discorso e poi vi traduco ecco in poche parole lui ha detto credo che questo paese gli Stati Uniti debba impegnarsi a realizzare l'obiettivo prima che finisca questo decennio di far atterrare un uomo sulla luna e farlo tornare sano e salvo sulla terra non c'è mai stato nessun progetto spaziale più impressionante per l'umanità o più importante per l'esplorazione dello spazio e nessuno è stato così difficile e costoso da realizzare e poi ha aggiunto abbiamo scelto di andare sulla luna e di fare altre cose non perché sono facili ma perché sono difficili niente quindi proprio ha lanciato una vera sfida in quel momento alla Unione Sovietica e diciamo dopo i primi successi gli americani decidono di affidare un po' il coordinamento di questo progetto a Werner von Braun che era un ex ufficiale tedesco era stato il costruttore delle micidiali di bombe V2 che avevano bombardato e fatto dei danni a Londra e niente insomma c'è stato un ripescaggio e questa è stata forse una delle chiavi vincenti del programma Apollo lo stesso Werner von Braun ha sempre dichiarato che lui fin da bambino aveva sognato proprio di riuscire in qualche modo a raggiungere la luna ecco non dobbiamo dimenticare che nel progetto Apollo ci sono state purtroppo anche delle vittime queste tre persone questi tre astronauti avrebbero dovuto essere probabilmente i primi uomini a mettere piede sulla luna Virgil Grissom Edward White Roger Chaffee e hanno perso la vita su un banale diciamo un banale addestramento a terra ecco non dobbiamo neanche dimenticare che il successo dell'Apollo 11 è stato preceduto da due missioni che secondo me piuttosto importanti l'Apollo 8 e l'Apollo 10 che sono riusciti a circunnavigare la luna quindi proprio come nel romanzo di Verne questa è una bella foto che è stata ripresa durante la missione Apollo 8 vediamo la terra sullo sfondo e la luna sotto i piedi e quest'altra che mostra il distacco dell'EM quindi il modulo destinato ad arrivare sulla luna che è stato distaccato dalla missione Apollo 10 ma che è poi stato subito ripreso perché in quel caso non era previsto l'allunaggio è stata una missione quella dell'Apollo che ha comportato l'uso di vari mezzi che si sono diciamo un programma piuttosto articolato dalla partenza all'arrivo sulla luna al ritorno a terra ci sono stati vari moduli che sono stati impiegati vi faccio vedere un filmato dove è stilizzato ma vediamo proprio tutte le varie fasi di questo di questo progetto insomma vediamo il missile Saturno 5 che parte dalla lampa di lancio ecco viene impressa la massima potenza per sfuggire dalla gravità una volta che il primo stadio ha esaurito il carburante viene staccato prosegue il secondo stadio ben presto finisce il carburante anche il secondo stadio ma a questo punto quello che resta rimane in orbita terrestre quindi in orbita terrestre si aspetta il momento giusto per poter far partire il terzo stadio ecco che avviene e questa strana configurazione prosegue verso la luna a metà del viaggio avviene una strana manovra praticamente il modulo di comando che è quello a destra assieme al modulo di servizio viene ruotato si sgancia dal terzo stadio viene ruotato di 180 gradi e va ad agganciare il LEM cioè il modulo che poi sarebbe servito servirà per atterrare per allunare sulla luna ecco una volta agganciato ci si libera del terzo stadio e questa strana astronave prosegue verso la luna tra l'altro con l'ugello in avanti ma sappiamo che il viaggio è fatto per inerzia a questo punto arrivati in orbita lunare si stacca il modulo di discesa dove saranno entrati preventivamente i due astronauti destinati a esplorare la luna e grazie a questo piccolo ugello sotto al modulo di discesa riescono a planare abbastanza dolcemente sul suolo lunare ecco che gli astronauti hanno modo di discendere hanno modo di impiantare la bandiera americana hanno modo di posizionare alcune apparecchiature scientifiche che poi serviranno per vari esperimenti anche da terra ecco che gli astronauti risalgono dentro al modulo di ascesa a questo punto ecco che viene staccato il modulo di risalita il LEM il famoso modulo di discesa rimane giù sulla luna e il modulo di risalita va ad agganciare il modulo di comando nel quale era rimasto dentro il terzo astronauta ecco che si trasferiscono i due uomini che hanno calcato il suolo lunare viene sganciato il modulo che finirà sulla luna il modulo di ascesa verrà acceso il motore del modulo di servizio e questa configurazione un po' più semplificata rispetto all'andata prosegue verso terra il viaggio dura più di tre giorni dopodiché la capsula arriva in prossimità della terra si stacca dal modulo di servizio e affronta la discesa nell'atmosfera opponendo lo scudo termico che potrà arrivare anche a 3000 gradi centigravi a questo punto frenata la discesa ci saranno i paracadute che permetteranno l'ammaraggio e il successivo recupero recupero degli astronauti attraverso gli elicotteri provenienti da una vicina portaerei ecco una missione piuttosto complessa ma penso che questo video ci abbia un po' chiarito un po' meglio tutte le varie fasi questo è lo storico lo storico equipaggio che ha calcato per primo il suolo lunare costituito da Neil Armstrong sulla sinistra il capitano Buzz Aldrin nel suo secondo e Michael Collins che in realtà rimarrà in orbita lunare ad aspettare i suoi i suoi compagni di viaggio è il 16 luglio del 69 sono le 13.32 tempo medio di Greenwich quindi tempo universale e il famoso Saturno 5 parte per la missione come nel film come nel romanzo di Jules Verne una straordinaria folla di spettatori ovviamente non poteva mancare qui vediamo il presidente Lyndon Johnson l'ex presidente questo nella tribuna dei VIP ecco questa è l'immagine quando si stacca il modulo di discesa si stacca dal modulo di servizio di modulo di comando quindi sarà Collins a fotografare questo veicolo mentre gli occupanti del modulo di discesa fotograferanno a loro volta il modulo di comando nel quale è rimasto dentro Collins eccolo qua questa è la famosa foto della prima orma lasciata sulla luna dall'uomo un piccolo passo per un uomo un grande passo per l'umanità è la famosa frase di Neil Armstrong qui vediamo la discesa di Buzz Aldrin fotografato da Neil Armstrong che era già sceso qui vediamo i due che stanno piantando la bandiera americana fotografati dalla webcam che c'era a bordo del modulo ecco un evento curioso è che quando sono ripartiti i gas hanno fatto cadere la bandiera questo non è stato detto chiaramente l'aveva detto chiaramente Buzz Aldrin ma forse è stato un po' zittito la storia è venuta fuori dopo vari anni ecco qui Buzz Aldrin davanti alla bandiera americana questa è l'unica l'unica foto di Neil Armstrong sul suolo lunare da solo l'unica è incredibile evidentemente lui ha preferito fare il fotografo mentre il suo compagno ha preferito fare l'attore qui vediamo ancora Buzz Aldrin che porta alcune apparecchiature per l'esperimento laser ranging retroflector che prevedeva il piazzamento di uno specchio sul suolo lunare che poi sarebbe stato colpito da un laser proveniente da terra e questo ha permesso di misurare con molta precisione la distanza terra-luna ne è emerso tra l'altro che la luna si sta allontanando dalla terra con il ritmo di 3,78 cm all'anno quindi ogni anno perdiamo 3 cm ecco qui un'altra bella foto della terra ripresa dal suolo lunare nostra terra questa è una delle ultime foto fatte alla luna nella missione Apollo 11 quindi con gli astronauti ormai già a bordo del modulo di ascesa qui è Neil Armstrong all'interno del modulo di ascesa ecco da non dimenticare che sul modulo di discesa che è quel famoso quattropiedi a quattropiedi a quattro zampe è riportata è stata applicata una targa con i due emisferi quello occidentale e quello orientale della terra è una frase in inglese che in italiano fa qui uomini dal pianeta terra posero piede sulla luna per la prima volta luglio 1969 dopo Cristo siamo venuti in pace per tutta l'umanità quindi un messaggio che rimarrà lì per per i millenni a meno che a meno che la forte radiazione solare non vada a scalfire il diciamo la scritta ecco questa è una ripresa fatta da una webcam lasciata sul suolo lunare del momento del distacco del modulo di ascesa dal modulo di discesa e qui il modulo di ascesa che si sta avvicinando alla capsula di comando è fotografato da Michael Collins qui è il momento dell'ammaraggio e quindi del recupero degli astronauti e qui le prime impressioni che si sono scambiati con l'allora presidente Nixon questi tre astronauti sono stati messi cautelativamente in quarantena perché si temeva che sulla luna potessero aver contratto qualche virus qualche batterio che in realtà poi è stato purato sulla luna non c'è proprio niente di niente ecco qui i famosi festeggiamenti come nel libro di Verne qui sono avvenuti a New York ecco dopo l'Apollo 11 ci sono state altre sei missioni che sono partite per la luna cinque ce l'hanno fatta solo l'Apollo 13 come sappiamo non ce l'ha fatta ma fortunatamente l'impresa è riuscita da riportare a terra comunque sani e salvi tre astronauti ecco le altre cinque missioni quindi Apollo 12 14 15 16 17 sono riuscite tutte a portare due uomini sulla luna quindi assieme all'Apollo 11 fanno in totale 12 uomini 12 astronauti americani che hanno calcato il suolo lunare questa è l'ultima missione quella dell'Apollo 17 capitanata da Eugene Cernan il comandante Ron Evans quello a destra è il pilota del modulo di comando quello che non scenderà sulla luna e Harrison Smith che è il secondo il pilota del modulo lunare e che tra l'altro era anche uno scienziato nel senso che era un geologo quindi per la prima volta è stato mandato non solo un astronauta addestrato ma un astronauta che avesse anche la possibilità di di lavorare a livello geologico lui era un geologo ecco qui è la foto del del modulo di discesa assieme al modulo di risalita e della famosa rover lunare che gli americani hanno messo a punto per le per tre missioni per l'Apollo 15 Apollo 16 e Apollo 17 molti si chiedono come faceva un'auto così a essere portata a bordo di quel trabiccolo tra virgolette che è il modulo di discesa lo vediamo da questa immagine di laboratorio dove il rover è stato completamente ripiegato con queste con le sue ruote ed è stato alloggiato in un vano del modulo di discesa ecco qui un'altra bella foto sempre di Harrison Smith il geologo sul bordo di un cratere un cratere lunare il cratere Shorty e ancora Harrison Smith mentre sta armeggiando e sta diciamo cercando delle rocce lunari interessanti da portare a terra tra l'altro è riuscito a scoprire delle specie di biglie di vetro sulla luna che sono biglie di origine vulcanica una volta analizzate a terra hanno diciamo gli scienziati hanno scoperto tracce di acqua dentro a questa biglia quindi non so è una cosa un po' strana però così è così è quindi è un elemento in più per cercare di capire come si sia formata la luna come si sia formato il sistema solare ecco qui vediamo una breve clip che ci mostra il movimento di questo rover questo si riferisce alla missione Apollo 16 tra l'altro il silenzio che sentiamo è reale perché sulla luna non c'è l'aria e quindi ci sono avvicinati alle colline insomma deve essere stato molto emozionante poter pilotare un mezzo del genere sul suolo lunare ecco in questa immagine vediamo in giallo i sei punti di allunaggio di queste sei missioni di cui ho parlato quindi Apollo 11 Apollo 16 17 15 14 e 12 quindi sono state sei le missioni nel 2009 quindi molto tempo dopo la NASA ha messo in orbita attorno alla luna un mezzo un satellite un orbiter con il compito di mappare molto da vicino lo fa mi sembra a meno di 30 chilometri di altezza mappare molto da vicino la superficie lunare e diciamo da questa scansione di tutte queste immagini sono usciti proprio i sei luoghi dove sono atterrate le missioni ecco questa per esempio è la missione Apollo 11 vediamo il modulo di discesa che è rimasto lì vediamo alcune apparecchiature scientifiche fra le quali il famoso specchio riflettente e insomma si vede abbastanza bene anche le tracce dei diciamo degli astronauti che in quella missione non fecero per la verità molta strada qui abbiamo l'Apollo 12 vediamo che le tracce degli astronauti si allungano un po' di più poi c'è ancora l'Apollo 14 poi ancora l'Apollo 15 ecco l'Apollo 15 che ha imbarcato anche il rover quindi si vedono qui molto leggere ma le tracce delle quattro ruote e poi ancora Apollo 16 anche qui con le tracce lasciate dal rover e l'Apollo 17 insomma per chi ci vuol credere questa è la prova che effettivamente siamo andati sulla Luna ecco dobbiamo ricordare anche che le missioni Apollo come tutte le missioni spaziali hanno comportato grosse spese sicuramente però se non altro ci sono state delle ricadute tecnologiche sulla vita anche dei nostri giorni insomma in campo medico in campo proprio anche quotidiano insomma ne vediamo qualcuna così per esempio le tute Gore-Tex che noi indossiamo quando andiamo a sciare sono fatte questo materiale deriva dagli studi fatti per le tute spaziali soprattutto quelle che sono andate sulla Luna il velcro è stata un'altra invenzione che si è resa necessaria perché come sappiamo a bordo di questi mezzi non c'è la gravità quindi tutti gli oggetti vagano per la cabina e quindi c'era la necessità di bloccarli sulle pareti per non andare a causare dei danni quindi il velcro è stata una delle delle invenzioni che si è molto perfezionata anche a livello aerospaziale le pentole antiaderenti sono fatte di teflon sono rivestite di teflon il teflon non è stato inventato in epoca Apollo ma molto prima però è stato perfezionato con le emissioni Apollo e insomma si è riusciti per esempio serviva come collante in parte additivato da altre cose come collante per il famoso scudo termico la miniaturizzazione dell'elettronica è stata una esigenza impellente per l'astronautica proprio per ridurre i pesi perché ogni chilo in più costa un'enormità a portarlo in orbita e quindi noi oggi ne beneficiamo per esempio con i nostri telefonini che pesano niente e hanno delle memorie pazzesche insomma qui ci sono le famose batterie combustibile che sono utilizzate per esempio anche nelle auto elettriche quindi è un derivato anche questo delle missioni aerospaziali gli orologi al quarzo un'altra invenzione non si poteva andare su col pendolo e quindi si è dovuto trovare un sistema un po' più brillante ecco i cibi liofilizzati sono nati per nutrire gli astronauti là in alto in orbita e noi oggi molti cibi li compriamo al supermercato in forma liofilizzata anche per esempio gli elettrodomestici senza filo cioè il filo serve solo per caricare la batteria ma poi vengono utilizzati diciamo senza il bisogno di attaccarsi alla corrente e questa è stata una esigenza appunto delle capsule spaziali e poi non ultimo tutta la pletora di 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 sonde di satelliti sia per uso meteorologico che per uso telecomunicazioni di cui godiamo effettivamente tutti quanti allora finito il 1972 con l'ultima missione Apollo 17 si chiude l'epopea umana sulla luna è successo che a quel punto dopo tre anni dal 69 al 72 tre anni di continui sbarchi e frequenti anche sulla luna forse la gente si era un po' disamorata cioè non era non faceva più scoop addirittura sembra che per l'ultima missione la NASA abbia dovuto pagare le tv per far trasmettere questa missione insomma quindi a quel punto il contribuente americano soprattutto si chiedeva perché spendere tutti quei soldi per insomma per andare sulla luna allora nel 72 il presidente Nixon annulla il progetto Apollo lo chiude anche se c'erano altre missioni pronte per partire e diciamo salva un po' il bilancio degli Stati Uniti in quel modo quindi per diciamo 37 anni nessuno più no allora no un attimo i russi che avevano perso la battaglia avevano perso la battaglia diciamo sulla luna a questo punto non erano più incentivati a spendere altri soldi per arrivare secondi non aveva senso e quindi anche loro chiudono il programma lunare almeno inteso come sbarco di uomini sulla luna tuttavia resta attivo un minimo di programma per far arrivare dei mezzi automatici quindi dopo il 72 l'Unione Sovietica continua a mandare qualche missione robotica per esempio riesce a mandare due di questi mezzi due rover che riescono a posizionare a far atterrare regolarmente sulla superficie lunare e questi mezzi riescono insomma a muoversi sulla superficie lunare a trasmettere dati scientifici parliamo dell'uno code 1 lanciato dalla missione luna 17 e dell'uno code 2 lanciato dalla missione luna 21 però ancora forse più interessante sono state queste tre missioni luna 16 luna 20 luna 24 che hanno portato sul suolo lunare e fatto al lunare dolcemente dei mezzi dei mezzi che sono scesi sono riusciti a prelevare dei campioni di suolo lunare e riportarlo a terra li hanno fatti poi scendere in Siberia è stato un evento se vogliamo tecnologico di un certo pregio niente a che vedere con le missioni umane ma tuttavia la Russia ha dimostrato anzi l'unione sovietica ha dimostrato di esserci abbastanza in campo aerospaziale considerate che queste tre missioni hanno portato a terra qualcosa come tre etti complessivamente 3,3 etti di suolo lunare quindi una cosa molto minima con i 380 chili portati dagli astronauti nelle varie missioni di cui 111 solo con l'Apollo 17 c'era il geologo e quindi ci ha pensato lui ecco fino al diciamo al 2003 al 2013 nessuno ha più messo piede cioè nel senso né umanamente né con mezzi robotici sulla luna sono state missioni che sono andate in orbita lunare per mappare per prendere altri dati scientifici ma nessun mezzo è più sceso sulla luna sono passati 37 anni siamo entrati nel nuovo millennio ci hanno pensato i cinesi con la missione Chang'e 3 che è allunata il 14 dicembre del 2013 ha messo giù un un lander dal quale si è staccato questo oggetto che è un rover chiamato Yutu Yutu che in cinese vuol dire coniglio di zarda coniglio di zarda sarebbe un personaggio ho letto che è un personaggio della mitologia cinese che abiterebbe sulla luna per cui insomma il nome deriva da questo ecco qui un'altra bella immagine sempre di questo Yutu fatta dai cinesi quindi fatta dal modulo di discesa che sta fotografando il rover a questa missione se ne è aggiunta una proprio quest'anno che è discesa sulla luna la missione Chang'e 4 con il rover Yutu 2 è scesa il 3 gennaio di quest'anno quindi recentissima con questa missione i cinesi hanno voluto dimostrare che anche loro stanno incominciando a saperci fare in campo aerospaziale sono riusciti a far atterrare questo mezzo nella parte nascosta della luna cioè nella faccia che noi non vediamo è stata un'impresa abbastanza importante perché nessuno prima aveva pensato o era riuscito a collocare un mezzo sulla parte nascosta naturalmente prima avevano lanciato un satellite per le telecomunicazioni in maniera tale da poter rimandare sulla terra i dati provenienti da questo robottino questo robottino è atterrato nel grande bacino Eitken che è sulla faccia nascosta della luna è un bacino enorme 2500 km di diametro pare almeno secondo alcuni esperti americani pare che questo enorme bacino si sia formato quando molto tempo fa poteva esistere una seconda piccola luna in orbita attorno alla terra e secondo loro potrebbe aver compenetrato la luna vera e propria forse quando era ancora a livello magari magmatico e aver creato questo enorme bacino che è uno dei più grandi che si conosca nel sistema solare all'interno di questo bacino poi loro sono scesi sul cratere chiamato Von Karman quello che vedete lì davanti non è il Von Karman è un piccolo craterino diciamo nel quale la sonda è stata molto attenta nel non scendere perché se scendeva sul pendio di questo craterino avrebbe potuto la missione poteva saltare cioè sono stati molto bravi i cinesi a studiare un software tale per cui la missione si è autogestita autonomamente in maniera completa addirittura scegliendo il punto di atterraggio qui vediamo la foto di alcuni astronauti che stanno partendo con la missione Shenzhou 7 nel 2008 i cinesi come dicevo sono stati zitti per tutto il millennio passato ma adesso nel 2000 cioè nel nuovo millennio stanno effettivamente cercando di bruciare le tappe hanno incominciato hanno iniziato nel 2003 a mandare dei cosmonauti in orbita attorno alla terra loro li chiamano taikonauti perché deriva dalla parola cinese taikong che vuol dire spazio e quindi dal 2003 hanno incominciato a far capire al mondo che possono insomma diventare una potenza di un certo livello e addirittura le ultime diciamo esternazioni cinesi sono che vorrebbero entro il 2030 arrivare ad essere una potenza aerospaziale a livello delle maggiori altre quindi della nasa e del consorzio europeo americano insomma hanno anche altri progetti per esempio hanno il progetto di mandare una missione mi sembra nel 2020 verso Marte parliamo sempre di missioni robotiche ci sono allo studio alcune missioni per raggiungere gli asteroidi alcuni asteroidi e addirittura pensano anche di mandare di riuscire a costruire una base lunare robotica cioè non parlano ancora di astronauti veri e propri che dovrebbero raggiungere il suolo lunare ma stanno pensando però al momento la cosa non è ancora operativa stanno pensando di fare una base robotica dicono così però intanto si sono costruiti vicino a Pechino il palazzo lunare una sorta di hangar nel quale vanno a riprodurre a simulare quella che potrebbe essere la convivenza in una futura base lunare ci mandano squadre di quattro ragazzi quattro studenti due ragazze e due ragazze ci stanno 370 giorni per volta e provano a testare le condizioni di una lunga permanenza sulla luna anche perché il ricambio non sarà tanto frequente insomma sono imprese costose e quindi ok questo per quanto riguarda i cinesi e per quanto riguarda noi diciamo noi europei noi occidentali allora innanzitutto ricordiamo che l'ultimo progetto operativo è quello della stazione spaziale internazionale che ruota a 400 chilometri sopra le nostre teste ed è stata costruita da un'equip di società aerospaziali parliamo di NASA parliamo di ESA cioè l'agenzia spaziale europea parliamo della Roscosmos russa della JAXA giapponese e di quella canadese RCA mi pare che si chiami ecco quindi questi questi cinque partner adesso ne stanno pensando delle nuove anche perché questa stazione spaziale dicono loro verrà probabilmente abbandonata a partire dal 2024 c'è stato un simposio nel 2016 a Colonia dove ha partecipato l'ESA ma hanno partecipato anche queste altre quattro società aerospaziali e Johann Dietrich Werner che è il presidente dell'ESA ha espresso il parere che il prossimo progetto sarà quello di mettere una base umana sulla luna sul lato nascosto ecco gli è stato chiesto perché tornare sulla luna e proprio sulla faccia nascosta lui ha detto sul lato nascosto si potrebbero avviare delle ricerche radioastronomiche di altissimo valore perché si ascolterebbe l'universo senza i disturbi generati dalla terra quindi la luna farebbe da schermo sarebbe una finestra unica per lo studio del profondo cosmo inoltre si potrebbero continuare molti degli esperimenti già avviati a bordo della stazione spaziale che come sappiamo verrà chiusa e sarebbe anche un'esperienza unica preludio alle future basi su Marte che però sono ancora molto di là da venire quindi anche qui ha un po' raffreddato gli entusiasmi gli ha fatto eco il responsabile della NASA Charles Bolden che ha detto tra il 2020 e il 2030 dovremmo impegnarci a creare attorno alla luna le infrastrutture necessarie alla sopravvivenza della base e ad assicurarci che si possa intervenire velocemente in caso di problemi quindi in sostanza quello che si andrà a fare a breve sarà quello di creare una rete di satelliti soprattutto per le telecomunicazioni attorno alla luna e soprattutto di costruire una stazione spaziale lunare quindi una stazione orbitale attorno alla luna in modo che possa fare da attracco per i veicoli che provengono da terra o che vanno verso la luna oppure viceversa che dalla luna portano gli astronauti verso terra quindi un punto di appoggio quindi questo sarà una missione primaria ecco l'ESA quindi gli europei stanno spingendo fortemente sul programma di base lunare abitata quindi il cosiddetto Moon Village un laboratorio permanente sulla luna abitato a turno da vari astronauti che possano compiere delle delle esperienze scientifiche insomma verrà probabilmente messa come diceva sul lato nascosto della luna comunque al di là del fatto che sia sul lato nascosto i problemi che ci saranno da risolvere per mettere una base di questo genere umana quindi abitata da uomini saranno diversi prima di tutto ci sarà da fronteggiare quello che è la radiazione solare e la radiazione cosmica visto che sulla luna non c'è praticamente un campo magnetico in grado di deviare queste particelle che alla lunga possono diventare letali poi c'è il problema dei micrometeoriti che già hanno colpito qualche volta la stazione spaziale fortunatamente senza grossi danni ma che potrebbero fare dei danni su questi laboratori visto e considerato che sulla luna non c'è l'atmosfera che possa bruciare questi micrometeoriti e poi c'è il problema dell'escursione termica cioè qui di giorno si va a più 127 gradi centigradi di notte si va a meno 173 quindi è un'escursione che va fronteggiata a livello di isolamento insomma di isolamento ecco l'idea europea per riuscire effettivamente a fare un qualcosa che poi possa essere gestito dagli uomini è quello di costruire una base cioè far costruire questa base dai robot dopodiché quando sarà operativa potranno subentrare gli umani in poche parole loro pensano di inviare sulla luna un modulo cilindrico questo che vedete spuntare dal quale si gonfierebbe una una cupola di gomma e questa cupola poi verrebbe ricoperta di regolite che è la comune sabbia lunare diciamo verrebbe ricoperta da questi mezzi robotici quindi che la posizionerebbero lì farebbero come un cumulo ma un cumulo robusto perché interverrebbero anche delle stampanti 3D proprio a irrobustire questa struttura vi faccio vedere un video veloce dell'ESA che appunto sta portando avanti questo progetto vediamo questo cilindro che è l'unità abitativa che verrebbe portata sulla luna con un mezzo tipo lem quindi verrebbe fatto posare sulla superficie ecco che verrebbe prelevato e depositato sul suolo lunare ecco a questo punto si gonfierebbe la famosa cupola gommosa sull'altro lato ecco a questo punto interverrebbero questi mezzi strani mezzi strani che hanno da una parte sulla sinistra in verde una specie di benna che prende la regolite al centro ci sono degli additivi che poi verranno miscelati con la regolite tramite questa stampante 3D quindi qui vediamo il mezzo impegnato a portare la regolite ecco che entri invece in funzione la stampante 3D per miscelare amalgamare questa regolite e creare un qualcosa un guscio che possa proteggere gli astronauti una volta che abiteranno questa struttura naturalmente ci saranno anche degli oblo protetti quindi questo guscio verrebbe essere un'ottima difesa contro la radiazione solare soprattutto e contro i micrometeoriti che potrebbero danneggiare la struttura poi ci sarebbe l'unità vera e propria abitativa e la parte gonfiata che sarebbe il laboratorio lunare ecco siamo alla fine siamo quasi a un'ora volevo solo diciamo chiudere col fatto che il progetto che stiamo portando avanti che sta portando avanti questo consorzio di società aerospaziali è proprio la realizzazione per primo della famosa stazione spaziale orbitale attorno alla Luna è stata chiamata l'OPG da Lunar Orbital Platform Gateway e sarà costituita appunto da questi moduli sarà un qualcosa molto più piccolo dell'attuale stazione spaziale internazionale che è lunga più di 100 metri 106 metri mi sembra questa non supererà i 35 metri di lunghezza ecco questa stazione poi servirà appunto per far agganciare i mezzi provenienti da Terra in particolare il Deep Space Transport questo strano cilindro che verrebbe sparato diciamo dalla Terra e che avrebbe il compito di portare materiali uomini e quant'altro verso la stazione spaziale spaziale lunare per poi poter discendere sulla Luna ecco questo mezzo verrà stato definito che verrà costruito dagli Stati Uniti anche se per il momento il Consiglio federale non ha ancora dato i soldi non ha ancora dato il benestare per poter andare avanti su questo ma intanto la stazione spaziale sta prendendo forma questa stazione lunare praticamente verrà costruita attorno alla Luna sicuramente a moduli come è stato fatto per la stazione internazionale e diciamo dopo varie orbite raggiungerà l'orbita definitiva che è un'orbita ellittica molto allungata il perieglio di quest'orbita rispetto alla Luna è di solo 3200 chilometri quindi immaginate questi astronauti che saranno sulla stazione lunare orbitale e che potranno vedere la Luna piuttosto da vicino però quando diciamo l'ellisse li porterà a 70.000 chilometri cioè alla feglio si troveranno piuttosto lontani sia dalla Luna quindi 70.000 chilometri sia dalla Terra perché saranno a 410.000 chilometri di distanza questo probabilmente comincerà a essere un addestramento per gli astronauti che si troveranno isolati nello spazio molto lontani dai punti di appoggio e probabilmente potrebbe essere una buona cura per i futuri viaggi verso Marte quando dovranno affrontare mesi e mesi lontani da ogni punto di appoggio insomma bene bene concludo con questa immagine che è lo spaccato di questa stazione orbitale e concludo con una buona notizia per l'Italia a settembre del 2018 la TEL Salenia Space che è una società franco italiana è stata incaricata dall'ESA proprio dello studio di due moduli fondamentali di questa stazione spaziale il primo è l'IHB che sarebbe un modulo abitativo quindi in grado di accogliere gli astronauti un modulo dotato di una camera di depressurizzazione per consentire eventuali EVA cioè consentire l'uscita degli astronauti magari per manutenzione attorno alla stazione orbitale e poi avranno questa specie di peduncolo che sarà un aggancio per veicoli provenienti sia dalla luna che dalla terra ecco l'altro modulo per il quale la TEL Salenia Space è stata incaricata è il modulo ESPRI denominato è un modulo di supporto un po' meno importante del primo ma comunque è un modulo di supporto farà da stoccaggio per il carburante e sarà dotato di un sofisticato sistema di telecomunicazioni fra la base lunare e la stazione stessa vi ringrazio per l'ascolto e la stessa applausi per l'ascolto